Special Olympics è un'occasione per dimostrare come lo sport abbatta veramente le barriere. In questi giochi non ci sono differenze, non ci sono colori, non ci sono differenze di religioni o di altro tipo. Siamo tutti uguali e quindi è bellissimo vedere questi giochi, è bellissimo vedere questi ragazzi praticare lo sport, è bellissimo vedere le famiglie che si ritrovano insieme a questi ragazzi a fare sport ed è bellissimo e sarà bellissimo il prossimo anno come Ministero dello Sport stare insieme ad organizzare i giochi che si svolgeranno in Toscana a Montecatini. Grazie a voi. Grazie. Buongiorno, buongiorno. E la mette da solo, questa la mette da solo. La mette da solo. Complimenti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Presidente. Vada, fai le coppio. Complimenti. Complimenti. Io sono anche qua. Basta lui. Un malena anche loro. Non c'abbiamo a far valentare una. Un malena anche loro. Un certo. Il Sidente. Bravo. Sì, grazie mille, grazie a voi, ragazzi.